Il video di oggi si chiama Salvini e i pedaggi, ma ve lo ricordate? Buongiorno! E non pago! Gentile! Il porto dovrebbe essere pagato entro 15 giorni. E non lo pago. No. Carta... Perché questo è un ammazzaglio che facciamo bene! Perché la melone non è la prima ad aumentare i pedaggi, ma quando il costo del pedaggio lo aumentò a Enrico Letta, a gennaio 2014, Salvini piantò una grana, andò al casello con tutte le telecamere, decise di non pagare il pedaggio. Bene, nove anni dopo, Salvini non soltanto non ha mantenuto gli stessi prezzi o, come avrebbe dovuto fare, ha ridotto il costo del pedaggio, ha fatto molto di più! Salvini ha preso e ha aumentato i pedaggi, proprio lui che faceva le sceneggiate. Ragazzi, la verità, diciamola tutta, è che se volete votare i Salvini e le Meloni, votate persone che sono bravissime a fare le scenette, non a governare la Meloni dal benzinaio, noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, Salvini dal casellante, ma che bei video che ci hanno regalato, quanti like! Poi però vanno al governo, e il costo delle loro scelte, lo paghiamo noi, le scenette di Salvini e della Meloni non sono gratis, ora, prima o poi, qualcuno se ne accorgerà.